Ciao a tutti, bentrovati su Balconi TV in Roma. Io sono Mica e oggi sono in compagnia di una cantautrice romana, lei si chiama Margherita Vicario. Ciao Margherita, benvenuta. Grazie. Cosa ci vuoi suonare? Vi canto L'impavido pettirosso. Perfetto, poi ne parliamo. Ecco, l'ho detto e lo faccio. È finito il tempo in cui fingo un collasso. Stavolta non scivolo, no, guardo un punto. Lo fisso e poi parto. Sì, guarda, già sento. Prividi alla nuca. Aria di libertà. Il nido è un po' in alto, un po' troppo. Non so se son pronto. Magari son scemo. Ancora non so procurarmi del cibo. Un verme del volo, no, niente da solo. È che si sta bene qua. Questa è la verità. Guarda che rischi un doppio reato. Poo! Disse sputandomi un merlo geloso. Tu che sei giovane, hai poco coraggio. Degno di un bruco letargico a maggio. E volate via. E vatti a fare una vita, no? Beh, se sapessi dove andare una volta partito mi sapresti lontano. Vorrei non tornare qui a vederti godere del mio amato nido. Ma che segreti che non t'ho capito. Vatti a fa' un giro. È ancora casa mia, lo ripeto. Ma che mi frega, a me è denito tuo. Io ce n'ho 108 di nidi. Volevo solo farti sapere che qua gli altri merli pensano che tu sia un po' un vigliacco, un po' un poveretto, un po' uno che non... Ma è merlo, tu provochi perché lo sai che cederò. La voglia di andarmene tanta, ma resterò. Non so se so a volare, la 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 la. E vabbè, ma impara, la 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 la. Devi imparare, devi imparare. Tu ti metti a studiare e poi qualcosa saprei fare. Ho capito merlo, ma ammetti che io apro male le alette, metto la zampetta male, mi sfraccico sul tronco e muoio. C'è sempre questa eventualità, no? Questa è pigrizia maligna, è una specie di tigna, di voi vecchi dentro. Io ero un portento, non dico di cervello, ma avevo una voglia, una forza per volare sul mondo, ma proprio noi che pur siamo. Non dico, pensa, se tu fossi un essere umano, ma sei un pettirosso e vola, no? Se no, continueranno a dire di te che sei un vigliacco, un vigliacchetto, un buon annullo. Merlo, tu provochi perché lo sai che cederò. La voglia di andarmene tanta, ma resterò. Non so se so a volare, la 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 la. Se si impara a culo, la 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 la. Prima o poi ti annoierai, ti annoierai. Ed invecchierai, infelice. Già lo sai, anzi già lo sei. Ti è. Grande, fantastica. Margherita Vicario per Bacconi TV Roma. Questa è la nona traccia del tuo album d'esordio, Minimal Musical, eccolo qua. Vuoi raccontarmi un po' di cose? Metto gli occhiali, va bene. Vai. Con tutto rispetto. Allora, che ti racconto? Che è un disco prodotto da Roberto Angelini per la Fiori Rari. Mi ha lasciato libera di fare esattamente quello che volevo, cioè mettere, fermare su un disco tutte le mie canzoncine. E questo è il Meryl Pettirosso, così è un po' l'intermezzo allegorico del disco. Ci sono dei single, perché il disco è uscito a dicembre 2014, quindi non tanto tempo fa. Cosa è successo con Margherita? So che sei stata anche in tour, è appena finito, dimmi un po'. Sì, ho fatto la prima data il 2 dicembre all'Angelo Mai per presentare il disco e poi l'ultima il 30 luglio al Monk. E nel frattempo sono andata in giro il più possibile, anche diciamo facendo altro nella vita, però dedicando tanto amore a questo primo disco. Sei sul disco, sei accompagnata da altri musicisti e dal vivo come ti esibisce? Dal vivo siamo in quattro, c'è la batteria, il violino, Defa, Cristiano De Fabrizio, c'è la batteria, Andrea Liberocito al violino e Luca Carocci che è diciamo il mio proprio compagno di palco, che suona chitarra acustica, elettrica e poi io suono anche il pianoforte, quindi è un po' più ricca. Però questa la faccio sempre da sola, anche ai concerti. Perfetto, noi siamo felici che l'hai fatta per noi, l'impavido Pettirosso. Adesso invece le prossime mosse? Le prossime mosse è sdraiare le mie membra in Sardegna, a casa di un mio amico e le prossime mosse ci si prepara per l'autunno con nuove canzoni, forse uno spettacolo a teatro, insomma si lavora per il futuro. Perfetto, io Margherita ti ringrazio tanto di essere stata ospite qua a Balconi TV Roma, spero di vederti presto dal vivo quando risuonerai. Grazie mille, grazie a voi. Margherita Vicario, questo è Balconi TV Roma, io sono Mika, ci sentiamo la prossima settimana, ciao, grazie. Grazie mille, grazie a voi.